di Udinese TV. Oggi in apertura sul Corriere della Sera si parla dei fondi dell'Unione Europea con il Premier Draghi che spinge i ministri, c'è la soddisfazione per i dati arrivati sul PIL, una crescita del 6,5% su base annua, ma continuano le liti post elezione Mattarella, soprattutto nel centro-destra, la Meloni, quello che ha fatto Matteo e Folle in riferimento alla gestione della votazione da parte di Salvini. Il Premier chiede un cronoprogramma scritto entro due giorni e ringrazia Mattarella per il sì. Sul fronte politico poi si ritorna a parlare di federazione di centro-destra, un partito repubblicano e Salvini va ad Arcore da Berlusconi che è stato dimesso dal San Raffaele. E poi le tensioni all'interno dei 5 Stelle, i tweet contro Di Maio che infiammano i pentastellati. Sul fronte estero, in Inghilterra, scuse di Johnson per la festa in lockdown, ma non vado via, dice il Premier britannico. A centro pagina, all'attesa di Zacchi, ho sognato che ero libero, oggi il Tribunale deciderà se potrà tornare a Bologna. Sul fronte Covid, mascherina in strada, stop dall'11 febbraio, maturità con due scritti. Queste le ultime decisioni arrivate dal Consiglio dei Ministri di ieri. Repubblica è tornato Draghi, le sfide del Governo. Il Premier detta le scadenze del PNRR, invita il Ministro a presentare i pieni aggiornati entro domani, il PIL a più 6,5%. Salvini che lancia un nuovo partito e divorza da Meloni, resa dei conti tra Di Maio e Conte davanti agli iscritti. Covid, ancora 10 giorni di divieti, a marzo terminerà l'emergenza. A centro pagina, ancora Zacchi, amo l'Italia, ma lotterò per i diritti in Egitto. Ci trasferiamo ora sulla stampa di Torino. Recovery, la svolta di Draghi, abbiamo 127 obiettivi per incassare 64 miliardi. Macron ha subito un nuovo patto di stabilità. I dati Istat, con il PIL che segna il 6,5%, il dato più alto, dal 1976 il Premier presenta la roadmap per il PNRR. Anche la stampa dedica la foto in prima pagina a Zacchi, credo nella libertà, l'intervista alla vigilia del processo. Ci spostiamo sul sole 24 ore. Nel 2021, gran rimbalzo del PIL, 6 imprese su 10 a caccia di addetti. Lo Stato dell'economia italiana, con il Ministro delle Finanze, l'obiettivo per il 2022 è superare la quota del 4%. Secondo l'Union Camera, mancano meccanici, ingegneri e tecnici digitali. Draghi, risultato frutto delle scelte del Governo e della crescita internazionale. Bonus per l'edilizia, rischiano di sfumare 2 mila miliardi di illeciti. L'inchiesta in tutta Italia, già intascata da criminali, metà dei 4 miliardi di crediti che dovevano essere ritirati individualmente. E poi, a centro pagina, al piano da 100 mini-satelliti made in Brescia. La GP Advanced Project cerca investitori. Veniamo al Fatto Quotidiano. Basta bugie, ecco chi ha stoppato Belloni, il leader 5 Stelle Conte, racconta al fatto i giorni del Quirinale. Ma di Letta mi fido, la numero 1 del Dis, sempre sul tavolo del centro-sinistra, senza veti, poi no del Partito Democratico, con un blocco trasversale di Taglio Alto. Draghi, Gelido, Ministro in Lite, il CDM Nullo, rinvio sulla scuola. Questa è la lettura della riunione di ieri dell'esecutivo. Giorgetti contro Speranza sulle riaperture. E a proposito di riaperture, andiamo a vedere quali sono i nuovi vincoli che scattano da oggi, soprattutto per quanto riguarda il Green Pass che diventa obbligatorio, anche per accedere agli uffici postali, alle banche, dal tabaccaio e nei negozi, oltre che poi scatteranno anche le multe per gli over 50 non vaccinati. Non solo mascherine, colori e discoteche. Dal 1 febbraio cambieranno le regole anche per Green Pass e non vaccinati. Da domani, infatti, il certificato verde sarà ridotto dagli attuali 9 ai 6 mesi di durata. Sarà inoltre obbligatorio per entrare nei principali negozi e attività, così come sarà obbligatorio per tutti gli over 50 essere in regola con il ciclo vaccinale per non incorrere nelle sanzioni previste dalle norme. Più corpose invece le modifiche sull'obbligo di certificato per entrare nei principali negozi dove sarà necessario presentare il proprio QR code, ottenibile tramite vaccino, tampone o certificato di guarigione, per entrare nei principali uffici e attività, poste, banche e librerie comprese. I titolari o gestori degli esercizi non sono però obbligati a verificare il possesso del Green Pass, ma possono effettuare dei controlli a campione. Resta consentito il libero accesso, tra gli altri, nei negozi di genere alimentari, in quelli per la vendita del cibo per gli animali domestici, nei distributori di carburante, nei negozi di vendita di articoli igienico-sanitari, in farmacie, parafarmacie e ottiche. In questo caso, i titolari di questi esercizi devono però verificare che i clienti non consumino alimenti e bevande sul posto. La stretta dal primo febbraio riguarderà in particolare gli over 50 che non si sono sottoposti al vaccino obbligatorio. Si tratta di circa un milione e mezzo di persone che dovranno pagare una sanzione una tantum di 100 euro, come deciso dal decreto che ha imposto l'obbligo vaccinale per quella fascia di età. Saranno esentati, ovviamente, le persone che non hanno fatto il vaccino per motivi di salute, salvo la presentazione di una certificazione medica. Il prossimo step arriverà infine il 15 febbraio, quando entrerà in vigore l'obbligo del super green pass per tutti i lavoratori over 50. Chi verrà sorpreso senza il certificato rischia una multa che varia dai 600 ai 1500 euro. Chi invece non presenterà la documentazione sarà considerato assente e ingiustificato con la sospensione dello stipendio, ma mantenendo comunque il lavoro. Continuiamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali libero, che titola Salvini alla guerra contro Giorgia. C'eravamo tanto alleati e Matteo vede il CAV e propone una federazione repubblicana senza estremisti legati a ideologie sconfitte dalla storia. La Meloni sono arrabbiata, gesti folli della Lega ancora insieme vedremo. Anche il Movimento 5 Stelle a pezzi, parte la campagna per cacciare Di Maio. Draghi non ha coraggio di levare i divieti, si aspettano altri dieci giorni per allentare le misure anti-covid. Oggi durata del green pass ridotta, multa in Novax, stato di emergenza fino al 31 marzo. Da Libero ci trasferiamo sulla prima pagina del giornale. Berlusconi svolta centro, non centrodestra. La tentazione del Cavaliere deluso per correre la strada della centralità che tutti riconoscono a forza Italia, ma con Salvini rimane uno spiraglio. La Gelmini, la Lega ora è più vicina all'Unione Europea, Fratelli d'Italia ha pensato ai voti. Il metodo grillino è del fatto di Maio linciato sui social fango dopo lo scontro con Conte. La verità al quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. In vigore le regole da matti, mascherini fino al 10, poi c'è San Valentino. Il mondo apre, noi da stamattina ancora più chiusi. Super green pass per ritirare la pensione imposta e entrare in ogni negozio, tranne che negli alimentari. E per sopra mercato, speranza, prolunga l'assurda misura della protezione obbligatoria all'aperto, arrendendosi solo agli innamorati. Incommentabile. A centro pagina, i camionisti canadesi contro la Card, il premier positivo si dà alla fuga. E poi, il governo ad ostacoli scoppia la prima bomba. Saipem, partecipata di Eni e Cassa Depositi e Prestiti, rivede i conti e perde un terzo del suo valore, costringendo il Ministero dell'Economia a intervenire. È solo l'inizio, ora arriveranno le grane sulle auto, sulle telecomunicazioni e l'inflazione. In taglio basso, il ponte Morandi di Genova, 7.000 tonnellate di troppo, l'uomo che ha finito la demolizione, peso eccessivo per risparmiare sui lavori. Vediamo la prima pagina del foglio, dagli editoriali, prima pagina. Le contraddizioni eterne, Salvini che riunisce i suoi, ma non sceglie la lega di lotta o di governo. E poi le alleanze immaginari, una riflessione di Mara Carfagna sulla federazione di centrodestra. Riavviare un governo finito, i nemici del premier sono più deboli, ma il draghicidio può avvenire anche per autocombustione. La trappola dell'unanimità e le svolte rimandate, il governo deve dimostrare di essere più vivo dei partiti. Veniamo ora alla prima pagina del gazzettino. La maxi truffa dei bonus Covid a fare da 440 milioni, indagate 78 persone, a Treviso altri 51 sotto inchiesta, la bella vita con gli aiuti. La cronaca locale prende a martellate la figlia Novax, non sopportava più di vederla a casa, in smart working è successo a Mestre. E poi la strage che si è verificata nella serata di domenica lungo la A28, è fuggito a casa, era ubriaco, l'autista che è andato a sbattere contro l'auto in cui c'erano due cugine che hanno perso la vita. Lo strazio del papà di Jessica è morta sotto i miei occhi. A proposito di questo andiamo a vedere il servizio con i dettagli rispetto anche alle indagini da parte della polizia. Nel Trevigiano continuano a essere grandi lo sconcerto e il dolore per la morte delle cugine Jessica Fragasso, 20 anni, e Sara Rizzotto, 26, deciduti in un incidente stradale avvenuto ieri sera, poco prima delle 20, sull'autostrada a 28, tra Villotta e Azzano Decimo, in direzione Conegliano. La Fiat Panda, su cui stavano viaggiando, assieme alle due bambine di Sara, rimaste ferite, la più piccola di pochi mesi, in modo particolarmente grave, è stata coinvolta in un tamponamento causato da un altro mezzo, un fuoristrada, poi capottatosi. Nell'incidente è rimasto coinvolta anche l'auto su cui stavano viaggiando i genitori di una delle due vittime. Il presunto responsabile del sinistro risulta un 61enne residente nel Pordenonese, di origini bulgare. Rimasto ferito in modo lieve, l'uomo era uscito autonomamente dal fuoristrada ribaltato e si era allontanato dall'aria. Individuato alcune ore dopo dalla polizia, è stato fermato per omicidio stradale colposo plurimo aggravato e per omissione di soccorso e fuga. Stando a quanto appreso dall'Ansa, è risultato fortemente positivo all'alcol test effettuato al momento dell'arresto. Le due cugine stavano rincasando dopo aver trascorso insieme la giornata a Caorle. Jessica Fragasso era di Mareno di Piave, mentre Sara Rizzotto abitava a Conegliano. Quest'ultima, di professione assistente sanitaria, era la mamma delle due bambine rimaste ferite. Una bimba di pochi mesi, la più grave, e la sorellina di circa due anni e mezzo, entrambe ricoverate all'ospedale di Udine. La più piccola, in forma a lanza, è in prognosi riservata. Torniamo sul gazzettino per altri dettagli rispetto all'incidente. Il pirata dell'A28 è stato preso a casa, era ubriaco. Si tratta di un 61enne bulgaro, accusato ora di omicidio stradale plurimo, lesioni, omissioni di soccorso e fuga, ora in carcere. Il SUV è piovato come un missile sulla panda di Sara e Jessica. Le bimbe sono ricoverate a Udine e la neonata è in prognosi riservata. Il conducente è uscito quasi indenne dall'auto, rovesciata. Avrebbe chiamato qualcuno per farsi venire a prendere. L'uomo ha sottoposto agli esami tossicologici. La procura ora dovrà dimostrare se era sotto l'effetto dell'alcol alla guida. Il taglio basso, la testimonianza rispetto al padre di una delle due ragazze che ha visto nello specchietto quanto è successo, mi sono sentito morire. Ora quel maledetto la paghi. Il papà di Jessica, quel SUV è arrivato come un proiettile, urlato, il nome di mia figlia non si è nemmeno mossa. Ho sperato che gli angeli salvassero tutte e quattro finché avrò vita e il pirata non avrà mai il mio perdono. Continuando sulle pagine interne del gazzettino, tornando alle decisioni del Consiglio dei Ministri, la proroga rispetto all'obbligo delle mascherine all'aperto. Ancora dieci giorni e poi lo stop all'emergenza. C'è anche il tema delle discoteche che riapriranno dall'unici febbraio. Via il sistema dei colori resta solo il rosso. Sileri prevede la fine del regime speciale di emergenza. Il 31 marzo cadranno tante restrizioni, ha spiegato ieri. Andiamo avanti con le altre pagine del quotidiano. Ci spostiamo anche con l'ausilio della regia sulla pagina successiva per quanto riguarda il gazzettino e gli altri dettagli sul fronte governativo. Un gioco fregare lo Stato presi i furbetti dei ristori. Questi sono i dettagli rispetto all'operazione della Guardia di Finanza su una mega truffa da 440 milioni. Sono 78 gli indagati. Non sappiamo più dove mettere i soldi. Questa è una delle intercettazioni registrate. Poi gli imprenditori dicono che il virus ci fa bene, tocca lavorare. È un business. A Treviso è stata scoperta una società fantasma o con false perdite per avere illecitamente i finanziamenti. 51 gli imprenditori iscritti nel registro degli indagati dopo gli accertamenti dei finanzieri. Tra i denunciati uno aveva incassato 25 mila Euro, li ha persi giocando online e un cinese aveva spedito i soldi a casa. Vediamo ora l'apertura del gazzettino nell'edizione del Friuli. Ancora dettagli in apertura rispetto alla tragedia in A28. Si è rifugiato a casa dopo la strage ed è stato rintracciato nell'abitazione in centro a Pordenone. Dopo due ore l'alcol testa ha rilevato il triplo del limite consentito. A centro pagina l'udinese, ne parleremo tra poco, sul fronte mercato. La formazione bianconera resiste alle offerte per Dello Feu. Scoperte in Friuli già cinque casi della Omicron 2. Il capo della task force regionale, Barbone, è presto per dire se sarà più aggressiva. Di taglio basso la politica locale con le dimissioni di 12 consiglieri comunali a Tolmezzo. Il sindaco Francesco Brollo, ovunque chiede e cade, arriverà il commissario fino a nuove elezioni. All'interno andiamo a alcuni dettagli rispetto ancora all'incidente. Il SUV con un missile, abbiamo visto la ricostruzione della dinamica, la condizione anche delle due piccole ricoverate in gravi condizioni all'ospedale di Udine. I dettagli invece sul guidatore del mezzo, 61 anni, imprenditore nel ramo trasporti, gestisce un'impresa a Villotta di Chionsa, una sede anche in Bulgaria. I genitori delle due ragazze ce le è tolte per sempre, quell'uomo deve pagare. Andiamo avanti con la pagina sanitaria invece. Omicron 2, in regione scoperti già cinque casi della nuova variante, sono stati sequenziati nei giorni scorsi su 266 tamponi esaminati e al 2%. Intanto i ricoveri in area medica superano la soglia della zona rossa. Riccardi, sul fronte vaccinale abbiamo superato gli obiettivi fissati da figliuolo, siamo indietro però tra i 30-60 anni. L'assessore regionale ha partecipato all'inaugurazione di un nuovo hub alla zona industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento. Il tema delle scuole. Dopo scuola travolto dai contagi assenti metà dei bimbi, ieri mancavano 336 alunni su un totale di 727 piccoli iscritti. L'assessore comunale di Udine e Marioni non abbiamo mai fermato questo servizio. Per quanto riguarda invece le nuove scuole, un edificio polmone a beneficio del centro studio, un investimento da 6 milioni che è stato presentato ieri per quanto riguarda proprio la città di Udine. La questione è Tolmezzo, la bufera con Brollo che perde il comune, un gruppo di consiglieri si è dimesso causando la decadenza del sindaco di giunta e consiglio. Una congiura di palazzo l'ha definita Brollo, il commento amaro dell'ex primo cittadino che critica la decisione di chi a suo dire ha sovvertito l'esito elettorale. La politica regionale invece cavalcavide a sistemare un'interrogazione in consiglio da parte di Mauro Dibert. Il tema dell'agroalimentare, a gennaio il sistema ha ottenuto un 25-30% di forza lavoro in meno, il congresso della FAICIL ha affrontato anche il tema sicurezza. Per quanto riguarda invece le imprese straniere, ieri è uscita un'indagine da parte della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, imprese straniere che reggono l'urto Covid sono più di una su dieci rispetto al totale. Molte sono a guida svizzera, altre dal Montenegro, dalla Serbia, dalla Romania, dalla Cina e dall'Albania. C'è una forte immigrazione di ritorno, questo emerso dallo studio della Camera di Commercio. Per quanto ci riguarda invece, su Udine ieri siamo tornati su una questione spinosa, quella della realizzazione mai ancora terminata degli ascensori all'interno della stazione ferroviaria di Udine. Continuano le proteste, soprattutto da parte dei disabili e dalla consigliere regionale dei cittadini, Simona Liguori, è stata presentata un'interrogazione in Consiglio a Trieste. Andiamo ad ascoltare le interviste di Monica Nardini. Le persone diversamente abili non possono più aspettare. Siamo con il signor Domenico Pellino, che è un paladino dei diritti delle persone diversamente abili. Abbiamo affrontato con lui un ragionamento sulla cogenza, sull'urgenza che c'è, naturalmente di adoperare questi ascensori, perché abbiamo visto che le persone diversamente abili hanno dei problemi enormi per prendere appunto il treno e quindi accedere ai servizi come tutte le altre persone. Sappiamo che anche la condizione appunto di diversamente abili è una condizione non di patologia, ma quanto più possibile di dover vivere appunto una vita normale. A più di due anni dall'inizio dei lavori, che cosa è che non ha permesso ancora la realizzazione degli attesi ascensori? Questo lo capiremo attraverso l'interrogazione che io farò appunto proprio in aula all'assessore Pizzimenti, chiedendo proprio all'assessore regionale dove ci siano stati gli intoppi e soprattutto come fare a risolverli, perché è quello che vogliamo fare. Non possiamo sempre dare naturalmente la colpa di tutto al Covid, il Covid che appunto ci impedisce di assistere le persone, di curarle, di far sentire normali le persone diversamente abili. Abbiamo bisogno di guardare oltre il Covid, finalmente. Ricordiamo quanti ascensori erano già stati promessi, lo chiediamo al signor Domenico anche se questa sera è senza voce, se riesce. Sono stati soltanto iniziati due ascensori. Sono come può constatare, sono fuori servizio perché non sono stati finiti i lavori, ecco. Ecco, cosa rappresenta anche per lei dover... Rappresenta un grande disagio perché io, non dico spesso, ma ogni tanto mi rego nella mia città nativa e quindi mi trovo ad affrontare questa difficoltà a chiamare oltre l'assistenza che è della Sala Blu, si chiama Sala Blu. Devo essere, diciamo, non sono in... non vado in autonomia, quindi questo non è bello. Una persona con disabilità si sente esclusa dalla società, non avendo un'autonomia personale, ed essere aiutata da altri è ancora peggio perché ti butta in depressione per essere proprio chiaro. Un tema che continueremo a vigilare e ora andiamo sulle pagine del Messaggero Veneto con l'apertura, negozi, tabacchini e poste da oggi con il Green Pass, limiti per i non vaccinati anche in banche e uffici pubblici, prorogato l'uso della mascherina all'aperto. La tragedia della 28, il pirata era ubriaco e poi la crisi a Tolmezzo, si rimettono in 12, Brollo perde il comune e arriva il commissario. Da oggi il Festival di Sanremo, ci sarà anche Berrettini attesa perché Cozzalone, vi ricordiamo l'appuntamento su Dinese TV ogni giorno dalle 19.30 con il Poma per tutte le curiosità e collegamenti live proprio dall'Ariston. Andiamo a vedere l'apertura della pagina economica del Messaggero, oltre alla crisi domani con il punto sulle imprese della top 500 in regione. Euro e promos, ricavi a 125 milioni, pronti per nuove acquisizioni. La pagina dedicata a Udine Città, il centro studi si amplia con una nuova scuola, ospiterà 700 ragazzi. Il progetto sarà completato in 135 giorni, costerà 6,2 milioni di euro. I primi a provarlo saranno gli studenti del liceo Marinelli che poi sarà a sua volta ristrutturato. Andiamo a vedere l'apertura del Messaggero per quanto riguarda il dorso di Pordenone. Slitta di 5 mesi, la fine dei lavori per il nuovo ospedale, difficoltà di approvvigionamento dei materiali edili, adeguamenti normativi, oggi la data limite è il 21 ottobre, la UIL funzione pubblica protesta per i buchi in organico. Per quanto riguarda invece il piccolo nell'edizione di Trieste, andiamo a vedere il quotidiano con l'apertura. Mascherine prorogate, stretta per 40 mila Novax, questa è la cifra dei over 50 che da oggi rischiano le sanzioni. A centro pagina, la sicurezza alle strade triestine dove si prendono più multe, il bilancio della polizia locale. Dal piccolo di Trieste all'edizione di Gorizia, andiamo a dare un'occhiata al tema che focalizza la cronaca cittadina, i vaccini a scuola, a casa 135 docenti e amministrativi con stipendio zero. Il dato è stato fornito dal sindacato, previti i dirigenti in grande difficoltà nel trovare supplenti, chiesti dei presidi medici in ogni scuola, questo sul fronte scolastico per quanto riguarda proprio Gorizia. Ora veniamo allo sport, le aperture dei quotidiani sportivi. Ieri c'era l'ultimo giorno di mercato e si sono chiusi con alcuni colpi. La Juventus con il tutto sport, assoluta protagonista della campagna acquisti che si è chiusa ieri sera, visite firme per Zaccaria. Gatti resterà a Frosinone sino a giugno, Betancur e Cluseschi a Londra, Ramsey, Rangers e poi Atalanta Toro si deve giocare, la sentenza del giudice sportivo. Per quanto riguarda Fiorentina Udinese invece la gara rimane sub iudice. Denbassec scommessa per Juric, per giugno Scamacca dice sì all'Inter e poi, che onore il tricolore, la Moioli pronta per la sfida olimpica, credo in me stessa e nella squadra. Andiamo sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Cambia tutto, Juve Regina, l'Inter si rafforza in cura squadre rivoluzionate, si è chiuso un mercato clamoroso, sabato riparte. Un altro campionato, Vlaovic, il supercolpo con Zaccaria per Allegri, Zaghi il più brillante con Gosens e Caicedo, Milan e Napoli guardano a giugno, Atalanta e Roma ok con Boga e Oliveira, Cabrala e Piontek in viola per l'Europa. Lazio arriva solo Cabrala, l'ultimo minuto sbarca la punta capoverdiana. Eriksen, non vedo l'ora, l'ex interrista che arriva al Brentford. Sulla Gazzetta dello Sport l'apertura col racconto dell'ultima giornata di calcio mercato. E poi andremo a parlare dell'Udinese. Juve da 9 ma balla il numero 10, cioè Dybala. Dusan supera fare e rilancia le ambizioni. Ora operazione rinnovi, li accoglia un caso con l'Inter sempre alla finestra e in estate non si sa che cosa potrebbe accadere. Il derby più alto d'Europa, sabato Inter-Milan, punti, vittorie e gol, nessuno meglio della città di Milano con le sue due formazioni. Ci sono le manovre di Zaghi e Piole, preoccupazione per Ibrahimovic, è tornato il dolore. Il pagellone sul fronte mercato, Gosens è l'uomo ideale per l'Inter, il Milan a vuoto. Preso anche Sec, il Torino cresce e pensa al futuro. Cagliari, Geno e Salenitana, colpi di coda per la salvezza. Dicevamo dell'Udinese con la formazione bianconera che si mette in difesa. Marie può diventare fondamentale ma c'è Perez pronto al decollo, solo ritocchi anche per superire alle partenze di Samir e De Maio. L'ex Arsenal regala esperienza mentre Benkovic è da scoprire. Questo è il punto del mercato bianconero. Ne ha parlato ieri sera in diretta al Tonight il direttore dell'area tecnica per Paolo Marino. Non avevamo grosse esigenze, in estate è stato fatto un buon lavoro. Allora andiamo ad ascoltare proprio un passaggio dell'intervista rilasciata ieri alla Tonight. Noi eravamo andati al mercato sicuri di avere fatto un buon lavoro in estate e quindi di non avere esigenze impellenti. Poi c'erano dei giocatori che volevano essere valorizzati altrove perché trovavano poco spazio da noi. Un calciatore in particolare, Samir, che era titolare nostro ma in realtà andava a scadenza contrattuale e quindi dovevamo provvedere al suo collocamento per cercare un'eventuale rivalutazione prima di perderlo a parametro zero. Abbiamo fatto queste operazioni, De Maio è andato via, Samir è andato via, sono andati via due difensori, uno di piede destro e uno di piede sinistro, due centrali e abbiamo preso un centrale di piede destro, Benkovic, in prospettiva anche e uno di piede sinistro già pronto che è Pablo Mari. Queste sono le operazioni principali, poi potremmo parlare di Theodorczyk che è andato al Vicenza o di Abbancoa che è un'operazione in prospettiva, un 2004 che tornerà utile sicuramente in futuro all'Udinese. Continuiamo a parlare dei bianconeri con le pagine sportive del Gazzettino, eccoci qua, con il Toro Pablo Mari si candida a una maglia. Il possibile staffetta con Pereza rientra da Argentina, fasce nel duo Molino Doge, Pereira si allena con i compagni, il Barone Causi oggi compie 73 anni, auguri a lui, questo per le curiosità. Dicevamo invece prima delle decisioni del giudice sportivo che non si è pronunciato sulla sfida contro la Fiorentina non disputata, Marino, noi conserviamo la fiducia. Alla formazione bianconera è stata richiesta un'integrazione rispetto al ricorso che è stato presentato. Nestorowski e Iaialo non partono, questo è un altro passaggio rispetto alla chiusura del calciomercato, gli esuberi restano in bianconero, il mercato si è chiuso con il ritorno del portiere Gasparini dal prestito del Legnago, la società ha resistito a tutte le offerte per De Lofeu e Beto. Il Napoli ha messo gli occhi su Molina, ha giunto, li proverà a prenderlo in estate per il team di Spalletti. Andiamo a vedere anche cosa è successo in Serie B perché c'è un'altra rivoluzione in casa Pordenone, Torrasi e Candelone gli ultimi botti, l'attaccante torna in prestito dal Napoli, il centrocampista già giocato a San Siro. Partono poi invece Camporese, Misuraca, Pinato, Foloruncio, Cupizze e Banse. Preso in extremis il difensore Andreoni dal Bari, la formazione nero-verde ha cambiato completamente volto. Altre notizie di sport dalla regione, Pradella nel 2015 al Gallini segnala Iblaovic al Milan, questa è una curiosità che esce rispetto al monodilettantistico regionale. E poi ancora per quanto riguarda le altre pagine sportive, sul Gazzettino andiamo a recuperare l'ultima che ci parla di basket, il carattere dell'Old Wild West che fa la differenza, prove convincenti di Lacey Cappelletti, Pellegrino o dei compagni magnifici. Coach Bonnicioli sorride o la fortuna di lavorare con giocatori di altro profilo e questo è sul fronte basket dopo la sfida vinta domenica dall'Apu. Lo sci con il percorso verso le Olimpiadi, la dinastia di Centa non finisce mai, voglio godermi questa avventura a parlare Martina di Centa che farà parte della nazionale italiana di fondo ai giochi di Pechino che partiranno nei prossimi giorni. Noi ci fermiamo qui con la nostra rassegna stampa, vi ricordiamo gli appuntamenti di giornata a Sudinese TV, torneremo live con informazioni alle 12, poi alle 15 pomeriggio calcio in serata al TG delle 19 e poi alle 19.30 allo speciale Sanremo con Giorgia Bortolossi, Alessandro Pomerai e Nicola Angeli per tutte le curiosità e i collegamenti live dall'Ariston, in prima serata invece basket a nord-est con Massimo Campazzo. Grazie a tutti per averci seguito, e buona giornata. Temperature minime anche prossime allo zero, massime comprese tra gli 11 e i 13 gradi. Situazione analoga sulle province di Gorizia e Trieste, con il sole protagonista durante tutta la giornata in un contesto asciutto. Temperature minime anche prossime o al di sotto dello zero a Gorizia, massime che su entrambi i territori toccheranno i 12-13 gradi. Dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Grazie a tutti.